salve ragazzi oggi iniziamo una piccola grande avventura e presterò la mia voce a una guida stilografica dal titolo aurora storia pratica e collezionismo a cura del nostro presidente tribo siccome è praticamente un bel libretto un bel libro quindi dai mettiamoci al lavoro non è un libro da ascoltare magari in una sola seduta io vi consiglio di dividervela in più sessioni e soprattutto di trovarvi un momento di serenità di tranquillità senza senza angustiarvi sarò io che leggerò di seguito per una due tre ore non lo so quanto durerà spero poco ragazzi aiutatemi aiutatemi voi perché la mia voce è quella che e quindi abbiate pietà anche di me allora iniziamo aurora l'aurora è una dei più importanti e prestigiosi produttori italiani di stilografiche ed è anche una delle più antiche aziende italiane ad operare in questo campo fra gli innumerevoli piccoli costruttori di penne stilografiche nati agli inizi del secolo l'aurora ha saputo primeggiare per qualità della produzione di iniziativa industriale diventando una grande azienda capace di contendere alla rivale omas il titolo di principale produttore italiano la ditta venne fondata nel 1919 a torino da isai allevi ed ancora oggi è presente sul mercato come azienda indipendente nella produzione di strumenti di scrittura la produzione si è sempre contraddistinta per la grande qualità e anche se l'azienda non ha realizzato invenzioni tecniche rivoluzionarie le sue penne si sono sempre distinte per originalità ed innovazione sul piano dello stile e per questo restano fra le più apprezzate ricercate dai collezionisti l'aurora negli anni venti gli anni venti sono gli anni ruggenti in tutto il mondo negli stati uniti esplode l'età del jazz mussolini marcia su roma e prende il potere l'unione radiofonica italiana il 6 ottobre 1924 realizza la prima trasmissione radiofonica del nostro paese alexander fleming scopre la pennicellina mentre stalin è presidente dell'urz l'emancipazione femminile diventa un fenomeno di massa charles lindenberg attraversa per la prima volta l'atlantico col suo aereo sono gli anni venti il futurismo celebra in tutti i campi l'idea di progresso modernità e velocità lo stile liberty imperversa in italia conosciuto anche come stile floreale aurora partecipa al fermento di questi anni producendo penne di prima qualità moderne affidabili e pensate per ogni tipo di pubblico lo racconta la sua pubblicità e lo raccontano i modelli che escono dalla fabbrica di via della basilica torino la produzione iniziale prevedeva i classici modelli di penne rientranti denominati r a da rientrante aurora ad esempio la r a isotta fraschini in seguito l'azienda iniziò a produrre anche penne in ebanite con caricamento a levetta nacque così il modello ara acronimo di aurora a riempiemento automatico queste erano penne in ebanite nera liscia o cesellata l'ara 4 per esempio oltre a queste c'erano ancora i modelli fa fisso aurora ossia a caricamento a contagocce non rientranti con tappo a vite o fas fisso aurora semplice che erano stilografiche non rientranti con tappo a incastro in quel periodo l'azienda seguiva la prassi comune dei produttori europei che li vedeva costruire modelli simili a quelli introdotti sul mercato dai grandi produttori americani che allora dominavano le tendenze stilistiche e lo sviluppo tecnologico ma nonostante si trattasse di evidenti imitazioni spesso questi modelli finivano per risultare nettamente superiore agli originali per qualità produttiva o per le peculiari realizzazioni stilistiche all'ebanite nera verrà infatti affiancata l'ebanite infiammata fiammata e rosso nero mentre con il rivestimento in oro e argento aurora creerà dei veri piccoli grandi gioielli in questi anni l'azienda affida la comunicazione e le proprie campagne pubblicitarie a grandi nome come biscaretti di ruffia e achille luciano mauzan nel 1927 la produzione dell'aurora viene arricchita dall'introduzione di un nuovo modello la duplex chiaramente isperato alla dufold della parker il nome della nuova penna venne scelto con un concorso il cui premio era di 30 mila lire con premi di 2 mila lire per gli altri risultati degni dimensione la chiusura del concorso avvenne il 30 aprile mille 1927 e il nome scelto fu appunto alata che però non parve piacere troppo all'azienda che optò invece per duplex non ci sono motivazioni note della scelta che è relativa al significato del nome ma forse non è una coincidenza che le prime due lettere coincidono con quelle della dufold la linea della duplex venne inizialmente prodotta in ebanite sia rosso aragosta che nera a metà degli anni 20 arriva sul mercato il colore in tutte le sue gambe grazie alla celluloide e con la serie duplex è tra le prime aziende europee a usare la celluloide nel 1929 circa con l'introduzione della celluloide ribattezzata dall'azienda in aurolite seguendo anche in questo il comportamento adottato dai produttori americani di dare un nome di fantasia alla celluloide l'aurora proda al colore le nuove penne erano pubblicizzate con la dicitura aurora duplex infrangibili in aurolite si notino le incensioni florali sulla clip e lo stile della penna che risente degli influssi dello stile liberty del tempo l'aurora negli anni 30 ed eccoci arrivati agli anni trenta nel primo maggio 1931 viene inaugurato a new york il grattacielo più alto del mondo l'empire state building e roosevelt lancia new deal per risollevare gli stati uniti dalla grande crisi hitler diventa cancelliere del reich e il mondo si avvia verso la seconda guerra mondiale in questi anni l'aurora in piena crescita e diversifica la propria produzione creando tre sottomarche la prima a oro su cui venne concentrata la produzione delle penne di fascia bassa più economiche rispetto ai prodotti marchiati aurora vendute in circuiti commerciali diversi da quelle delle cartonerie il ruolo di sottomarca dell'aurora divenne ufficialmente riconosciuto con la comparsa delle penne oro nei cataloghi dell'azienda madre proposte sempre come penne di fascia inferiore ma con le solide caratteristiche di affidabilità e robustezza secondo sottomarchio fu l'asco dedicata alla produzione di penne economiche destinate alla massima diffusione pensate inizialmente come linee di produzione rivolta alle aziende con penne da utilizzare come oggetti regalo o di promozione pubblicitarie si allargò in seguito a fasce più ampi di mercato attraverso la vendita per corrispondenza la produzione delle penne asco venne interrotta nella seconda metà degli anni 30 nonostante si tratti di penne rivolte alla fascia più bassa del mercato la qualità costruttiva e materiali in estremo di ottimo livello tanto che c'è chi sostiene che l'asco più che una sottomarca debba essere considerata come una linea di produzione indipendente poi venne la terza sottomarca fra virgolette non esattamente la amica una delle sottomarche più economiche con l'incisione amica sulla sezione scrittura nei primi anni del 1930 l'aurora introdusse il meccanismo di riempimento a leva posteriore una interpretazione originale del tutto funzionale del principio della leva laterale associato a quello del pulsante di fondo il principio tecnico su cui si basava la leva posteriore di aurora erano ancora il gommino e la barretta metallica azionata però da una piccola levetta posizionata sull'estremità posteriore del serbatoio in questo modo il corpo penna veniva liberato dall'ingombro della leva e al tempo stesso si eliminava il fondello filettato tipico del pulsante di fondo scommodo e facile da smarrire il nuovo meccanismo venne definitivamente adottato per le linee delle internazionale e delle novum il modello internazionale venne introdotto nel 1931 circa la ricca banda sul cappuccio decorata a motivi geometrici poneva l'estetica di questo modello in linea con le nuove tendenze derivate dall'influenza dell'arte deco nel panorama della stilografica si noti il caricamento a leva posteriore la penna deve presumibilmente il suo nome all'essere stata prodotta per il mercato internazionale essa infatti andò a far parte della combinazione penna matita meccanica chiamata le due moderne commercializzate in francia insieme alla edacoto non è chiaro se la penna sia stata introdotta prima in francia in vista dell'accordo con la edacoto e solo in un secondo tempo in italia esistono varianti della penna realizzate con il classico caricamento a levetta rinvenute nei mercati esteri ma solo una versione più economica ma il modello di maggior successo commerciale della produzione aurora degli anni 1930 fu senza dubbio senza dubbio la novum introdotta nel 1933 circa in due versioni liscia e sfaccettata e viene spesso ritenuta la risposta dell'azienda al successo delle nuove tendenze stilistiche rimase in produzione fino ai primi anni del 1940 fu la prima penna al mondo ad avere un corpo in alluminio che la rendeva indeformabili per poter sopportare la pressione del sistema di caricamento a leva corta la complessa clip di sicurezza un accorgimento tecnico in linea con la tendenza tipica dell'epoca di arricchire le stilografiche con innovazioni tecniche spesso non del tutto funzionali ma capaci di caratterizzare un modello in maniera distintiva venne ben presto eliminata in favore di una grip dalla stessa sagoma ma senza il meccanismo a molla la produzione aurora degli anni 1930 comprendeva anche il modello superna introdotto approssimativamente approssimativamente nel 1933 la superna veniva prodotta in due misure grande e media ed era soprattutto una penna elegante il cappuccio era arricchita da era arricchita da una vera da una vera con incisioni e con disegno di foglie stilizzate che si armonizzi si armonizzava con la sagoma fussolata e leggera della clip come la novum anche la superna era caratterizzata da un meccanismo di riempiemento molto originale tecnicamente simile al pulsante di fondo ma azionato da una piccola pallina che si muoveva lungo una struttura semisferica in alluminio posizionata sotto il fondello come tutte le aziende dell'epoca aurora non rimase immune a richiamo della trasparenza uno dei fattori maggiormente determinanti per il successo commerciale delle stilografiche negli anni 30 nel 1937 aurora propuse la propria interpretazione della trasparenza e dell'innovazione tecnica con il modello optima la optima era una stilografica esteticamente ricca e tecnicamente complessa il meccanismo di riempimento della optima era siringa inversa un solo movimento era sufficiente per riempire interamente la penna che garantiva una capacità quattro volte superiore rispetto agli altri modelli della stessa misura il principio di funzionamento come espresso dal nome si basa sull'inversione del meccanismo della siringa anche se forse l'analogia sarebbe maggiore con la pompa di una bicicletta in cui si usa il pistone della siringa invece che per risucchiare l'inchiostro per espellere l'aria dal corpo della penna e creare una depressione che poi è quella che consente di effettuare il riempimento la optima venne realizzata esclusivamente in celluloide una delle caratteristiche della serie iniziali è che la sezione è un tutt'uno con il corpo semitrasperente non può essere smontata cosa che ha provocato la rottura di molte penne da parte di ripariatori non sufficientemente esperti la penna era dotata di un pennino in oro a 14 carati e le finiture erano in metallo dorato ma nell'ultima serie era utilizzato anche il pennino in platiridio e finiture cromate la veretta ampia venne abbandonata quasi subito per una più sottile e venne prodotto non è chiaro se immediatamente o in seguito anche una seconda versione con la veretta grecata più sottile sempre compresa fra due annellini le versioni ritardi del modello prodotte negli anni 40 presentano invece una decorazione sul cappuccio più semplice costituita da tre annellini sottili contemporaneamente aurora apri i mercati esteri spagna america latina e francia in tale contesto merita merita di essere ricordato all'accordo stipulato tra il 1931 e 1932 tra aurora e l'azienda francese e dakota per la commercializzazione di sette di stilografica e portamine sul mercato francese i sette denominati le due moderne nelle inserzioni pubblicitarie erano composti da un aurora internazionale da un portamine e dakota il successo commerciale sarebbe derivato dall'unione di due grandi marchi di provata fama a livello internazionale aurora per le stereografiche e dakota per i portamine intanto nel mondo erico fermi crea a roma il gruppo di via pannisperna che collaborerà alla scoperta del neutrone lento base del primo reattore nucleare della bomba atomica mentre wallace carotter inventa il nylon lo swing si diffonde ovunque con una vera febbre l'italia vince il suo primo titolo ai mondiali di calcio italo balbo con la sua squadriglia di savoia marchetti compie la trasvolata atlantica italia brasile durante il decennio 1930-1940 oltre alle linee di punta proposte in vari stili e fasce di prezzo l'azienda di torino produsse linee di penne economiche strumenti per scrittura innovativi e in molti casi riuscì a individuare segmenti del mercato per i quali elaborò specifici articoli su misura rientrano in quest'ultima categoria le produzioni aurora rivolte al mercato studentesco come la stilografica topolino e la biancaneve le produzioni legate al mondo militare come l'etiopia e la serie imitata ml l'introduzione del modello topolino nel 1937 rappresentò senza dubbio una manifestazione di grande sensibilità da parte di aurora nei confronti dell'utenza più giovane suscettibile al fascino dei lungometraggi a cartoni animati firmati allora dal grande walt disney la topolino era una penna tecnicamente semplice con caricamento a pulsante di fondo e finestrella trasparente vicino alla sezione ottobre 1935 l'italia attacca l'etiopia come conseguenza dell'invasione la società delle nazioni decreta le sanzioni economiche all'italia il marketing dell'azienda in questo periodo è molto legato alle vicende politiche italiane nasce così la penna etiopia si narra che l'etiopia sia stata introdotta nel 1935 in occasione dell'invasione dell'abissinia voluta dalla politica di espansione coloniale fascista in quell'occasione l'aurora che già si era dimostrata piuttosto legata al regime usando gli slogan della propaganda fascista nelle sue pubblicità avrebbe prodotto una penna speciale per gli ufficiali delle truppe inviate in africa per questo la penna era dotata di caricamento a contagocce e di un serbatoio sul fondo per contenere le pastiglie di inchiostro essiccato da sciogliere nel corpo della penna aggiungendo acqua la penna era realizzata in celluloide bianca e riportava sul cappuccio un'incisione dell'aquila imperiale la storia di una penna creata apposta per gli ufficiali mandati al fronte spesso riportata per sottolineare rarità importanza del modello non è però che un'invenzione in quanto la etiopia venne immessa sul mercato solo a partire dal 1936 quando la guerra si era già conclusa si trattò pertanto di un'abile manovra commerciale che se per sfruttare l'eco della propaganda di guerra del regime realizzare una penna celebrativa scusate se prendo fiato ogni tanto ragazzi state con me stringetemi forte stringiamoci a corte e proseguiamo in questo viaggio meraviglioso e affascinante che ci porta attraverso la storia in un mondo fatto di stilografiche e nel mondo aurora di natura completamente diversa fu invece il modello asterope introdotto nel 1934 come stilografica altamente innovativa e avanguardistica l'asterope si differenzia totalmente da tutte le altre stilografiche dell'epoca era una penna senza cappuccio pensata per gli uomini d'affari degli anni 30 che poteva essere utilizzata anche con una sola mano in posizione di riposo il gruppo scrittura era contenuto all'interno del cilindro e poteva essere estratto per utilizzare la penna grazie a un complesso meccanismo a scorrimento azionato da un pulsante posto sul fianco del cilindro il pulsantino poteva infatti scorrere lungo una sorta di binario longitudinale che terminava con una biforcazione posizionato nella fenditura di sinistra faceva aprire lo sportellino e lasciava uscire il pennino per riportare la penna in posizione di riposo era sufficiente far scorrere indietro il pulsantino in questo modo tenendo la penna chiusa in una mano era possibile cominciare a scrivere semplicemente agendo con il pollice sul pulsantino non c'era bisogno né di svitare il cappuccio e tantomeno di riavvitarlo la seconda guerra mondiale rappresentò un periodo di crisi per l'azienda il razionamento delle materie prime e la difficoltà nel trovare metalli preziosi come loro portò alla creazione di pennini in acciaio come per le altre ditte si cercò di sostituire la mancanza di materiale pregiato con nomi altisonanti e l'aurora chiamò la sua lega di acciaio platiridio con tale pennino in platiridio nel 1940 venne introdotto il modello selenne una stilografica economica a pulsante di fondo in 12 colorazioni molto sobri con finiture cromate pennino in platiridio che veniva pubblicizzata come la penna di tutti vale infine la pena ricordare una linea di penne che aurora introdusse nel 1938 circa e che venne dominata serie speciale ml benché inserite nei catalogo ordinari aurora le penne della serie ml furono in vendita esclusivamente agli ufficiali delle forze armate per un periodo di tempo limitato in realtà questi modelli reclamizzati come creazioni specifiche per le esigenze degli ufficiali per la loro robustezza la grande capacità d'inchiostro la clip adattabile alla tasca delle uniformi eccetera in realtà erano normali stilografiche che aurora commercializzava comunemente per scopi promozionali il primo settembre del 1939 la germania invade la polonia e scoppia la seconda guerra mondiale ragazzi sto per battere un record forse non lo so ma andiamo avanti l'aurora negli anni 40 per aurora la rappresenta un momento di grande crisi l'azienda al contrario della concorrente omas subì pesanti danni dai bombardamenti nel 1943 gli impianti della sede di via basilica vennero distrutti da un incendio e le materie prime e gli archivi vennero persi a fine degli anni 40 l'italia repubblicana comincia alla ricostruzione dopo le distruzioni della guerra anche aurora ricostruisce la fabbrica spostandola ad abbadia di stura un'antica filanda tessile trasformata in una moderna fabbrica in chiaro stile olivettiano proprio dove si trova ora il museo dell'aurora se vi capita andatela andatela a visitare come segno concreto della propria rinascita seguendo di nuovo le tendenze del mercato dettate dall'introduzione dall'introduzione del modello 51 della parker a pennino coperto aurora produrrà nel 1947 la mitica 88 toglietevi il cappello in gesto in gesto veramente di rispetto per per questa aurora 88 la ripeto come segno concreto della propria rinascita seguendo di nuovo le tendenze del mercato dettate dall'introduzione del modello 51 della parker a pennino coperto aurora produrrà nel 1947 la mitica 88 la penna capolavoro sulla quale il dirigente giovanni eriches già dirigente della lovete della zanichelli con coraggio visionario punterà tutto il futuro dell'azienda affidata al design dell'architetto industriale marcello nizzoli disegnatore autore della macchina da scrivere olivetti lettera 22 la 88 è uno dei capolavori della produzione dell'azienda ed ebbe un enorme successo e può essere considerata come la risposta dell'azienda alle nuove tendenze stilistiche introdotte dalla parker 51 di cui viene considerata una chiara imitazione la risposta del mercato nei confronti di questa penna fu talmente positiva che in breve tempo le guadagnò il soprannome di gloriosa 88 in pochi anni ne furono venduti più di 8 milioni di semplari rendendo la 88 una delle penne più vendute in italia in assoluto la 88 infatti è una penna a pennino coperto e con cappuccio di metallo ad incastro il che la rende molto simile a una 51 la penna però ha una linea più corposa e uno stile del tutto personale che gioca sul contrasto fra il nero del corpo e il bianco del cappuccio e delle rondelle che separano il corpo da sezione e fondello oltre a questo la penna risulta più interessante di una 51 sotto moltissimi punti di vista a partire dai materiali per finire con il sistema di caricamento la penna aveva il fusto in celluloide nera mentre la sezione il fondello erano in ebanite piccola nota di colore queste penne che sono veramente delle ottime penne le potete trovare nei vari mercatini dell'usato in tutti i loro vari modelli di cui adesso se ce la faccio parlerò ma soprattutto la trovate a dei prezzi veramente bassi in confronto a tutto quello che c'è attualmente in produzione e su ebay nel mercatini dell'usato la potete trovare a 50 euro circa qualcosa in più se c'è anche la scatola le garanzie che fanno solo storia comunque adesso ci rimbocchiamo le maniche mi bagno un attimo le labbra con un bicchiere d'acqua e continuiamo siamo non stiamo quasi a metà a metà del di questa avventura andiamo la versione iniziale dell 88 venne realizzata solo con il campuccio nella nuova lega metallica nica argenta con riferimento a due dei suoi componenti nickel e argento questa lega metallica nica argenta decorata sottili righe verticali la clip è realizzata nello stesso materiale e ha una forma affusolata con una punta goccia fissata sul cappuccio tramite una vite che fa anche da testina il logo 88 era iscritto in un ovale riportato sulla sezione scrittura la penna veniva venduta in un caratteristico astuccio metallico triangolare che forse a mio parere riprendeva il logo dell'aurora al cappuccio in nica argenta si sono successivamente aggiunti cappuccio in metallo laminato oro o in metallo cromato sempre decorati a righe verticali in argento massiccio e molto più rare varianti con cappuccio e clip in oro massiccio a questo si aggiunge la particolare versione gl sigla che sta per gran lusso completamente coperta da metallo laminato oro o oro massiccio l'aurora negli anni 50 a metà degli anni 50 la rai iniziava le trasmissioni in bianco e nero con il lancio dello sputnik russo partiva la corsa allo spazio che sarebbe culminata a fine degli anni 60 con la conquista della luna da parte degli americani ve lo ricordate don camillo peppone guarischi nasceva il rock and roll con elvis presley venivano creati venivano gradi il primo ship i primi videogiochi e la prima minigonna la 88 l'aurora 88 è stato il punto di partenza da cui nel corso degli anni sono nate diverse evoluzioni 1953 aurora 88 k la più grossa differenza con la 88 con la prima 88 è la nuova clip piatta più robusta decorata con un incavo a goccia allungata decorato con laccatura nera la penna era realizzata interamente in celluloide compreso il fondello che non è più in ebanite il cappuccio continua a essere realizzato in metallo con le stesse varianti dell'88 eccettuato la nicargenta questo materiale infatti viene dismesso essendo considerata la sua lavorazione troppo costosa come sulla 88 viene utilizzata una schermatura in ebanite o celluloide sulla cui base è stampigliato il logo ovoitale dell'aurora recante stavolta soltanto la diciatura 88 k in cui la lettra viene realizzata in dimensioni più grande rispetto al numero la versione fall gold dell'88 k è anche conosciuta come aquila 88 k l'evoldo aquila era in attività dal 1930 come distributore aurora per la regione di napoli si dice che quel particolare modello sia stato da lui particolarmente richiesto negli anni successivi la produzione di stile grafica risentì in maniera sempre più massiccia come per le altre grandi aziende del settore dell'avvento della penna sfera l'azienda venne ceduta alla famiglia verona alla fine degli anni 50 nella persona di franco verona suo nonno era cesare verona senior che nel 1889 fu il primo a importare in italia a torino le macchine per scrivere dell'americana remington nel 1957 per contrastare l'avvento massiccio della penna sfera l'aurora lanciò sul mercato la duo cart una penna economica un caricamento a cartuccia realizzata per il mercato studentesco usando materiali plastici la duo cart è stata una penna innovativa per molti aspetti è un altro grande sforzo progettuale da parte di aurora per questo nuovo importante prodotto aurora scelse i servizi di un altro famoso nome del moderno design industriale alb steiner aurora ha detto ad alb steiner due cose una evershop 50 avenue e una 88 ad aurora era piaciuto il design a cappuccio corto della penna eversharp che era stato lanciato come un serio concorrente la parker 51 però aveva fallito principalmente a causa della sua ridotta capacità di inchiostro fu detto inoltre ad alb steiner che la nuova penna doveva usare la sezione dell'88 in quanto ciò avrebbe risparmiato sui costi di attrezzaggio e semplificato la logistica del supporto post vendita alb steiner fuse alcuni elementi della penna americana con la forma generale dell'88 la duo cart sfoggia un look unico col suo cappuccio corto in metallo e fusto di grande diametro la parte posteriore della sezione era inoltre dotata di un piccolo dispositivo che era in un certo senso rivoluzionario un dispositivo di perforazione delle cartucce l'innovazione più significativa della duo cart potrebbe però essere individuata nel suo sistema di carica nel 1952-53 infatti l'aurò rassunse il professor Giulio Natta uno dei principali ricercatori sui prodotti di materie plastiche Montecatini la carriera del professor Natta è di rilievo negli anni 60 guidò un gruppo di ricerca che sviluppò un nuovo materiale plastico il polipropilene Moplen il suo lavoro gli valse il premio Nobel per la chimica nel 1963 in uno sviluppo separato l'ingegnere dell'Aurora l'ingegnere Torchi aveva creato un design per una cartuccia di plastica flessibile Natta fu dunque chiesto di produrre il materiale plastico ideale per tale design e di fornire assistenza nella progettazione dettagliata della cartuccia la cartuccia Aurora doveva essere trasparente, flessibile e praticamente indistruttibile partendo dall'idea di Torchi Natta creò la prima cartuccia di plastica moderna la cartuccia Duocard aveva un ugello largo in bocca ed era progettata per fornire un flusso regolare di inchiostro il brevetto per la cartuccia di plastica Aurora fu depositato in Italia il 26 agosto 1953 con Torchi nominato inventore il brevetto italiano procede quindi il brevetto statunitense Waterman per una cartuccia simile che Waterman introdusse nel 1954 Aurora fece domanda per un brevetto negli Stati Uniti il 27 luglio 1954 ma i ritardi nella convalida del brevetto italiano permise a Waterman di ottenere l'approvazione del brevetto della cartuccia per prima durante un caso giudiziario del 1967 tra Waterman e la Schaffer Company fu dimostrato che i primi schizzi di Waterman su una cartuccia di plastica risalgono al 9 dicembre 1953 ben dopo che il progetto Aurora fu completato e che i campioni furono fabbricati e testati tornando alla Duocart la penna offriva funzionalità ancora più innovative le cartucce e Duocart erano alloggiate in un supporto di nylon e potevano essere caricate nella penna inserendo adattatori in metallo che conteneva due cartucce una contro l'altra e rimaneva all'interno della penna durante l'uso la parte superiore del fusto era dotato di un gioiello piatto cromato che fungeva anche da punto di ancoraggio per una corta catena di metallo che pendeva all'interno del fusto lo scopo della catena era particolare quando una delle due cartucce veniva consumata e scartata la catena toccava il portacartucce di metallo all'interno della canna e si agitava ricordando all'utente che era arrivato alla sua ultima cartuccia quando entrambe le cartucce erano all'interno del fusto la catena veniva mantenuta in posizione dalla cartuccia più in alto e la penna non emetteva alcun suono di avviso della penna sono note tre varianti principali succedute sì nel tempo la prima variante, quella propriamente denominata Duocart è caratterizzata da un compuccio piuttosto corto rispetto al fusto a testa piatta è una clip di forme curvilinee svasate con terminazione leggermente a goccia sostanzialmente analoga a quella dell'88 sia il fusto che il fondello sono a terminazione piatta e danno un tappo di usura metallico la seconda versione denominata Duocart è dotata di un cappuccio più lungo di proporzioni ordinarie la clip non è più svasata e mantiene delle linee convergenti uniformi con una punta rondondata la testa del cappuccio come il fondo del fusto restano piatti e con un tappo di chiusura metallico la terza variante denominata Duocart K è molto più somigliante alla 88K con forma affusolata a sigaro il cappuccio è decorato con linea verticale e la testina è a vite stondata anche la clip è sostanzialmente la stessa della 88K piatta e decorata con un incavo a gocce allungata decorato con una laccatura nera ci sono tre versioni della Duocart la Duocart aveva un prezzo di 3.800 lire per la versione mica argenta e 6.400 lire per la versione rivestita in oro a differenza dell'88K la Duocart ora venduta come Duocart è stata prodotta in diversi colori tra cui il grigio, verde, turchese e bordeaux 1956 circa Aurora 888 con lo stesso principio della Duocart venne realizzata anche la 888 che si può considerare la versione a cartucce della 88K 1957 ecco l'Aurora Firma il modello Firma fu lanciato intorno al 1957 ed è una variante interessante ma spesso trascurata le penne da scrivania erano molto più popolari in passato di quanto lo siano oggi la penna usa le stesse cartucce della Duocart e della 888 1958 abbiamo l'Aurora 88P l'Aurora dopo aver raggiunto con la 88 e la 88K oltre i 2 milioni e mezzo di esemplari venduti mise sul mercato una seconda ristellizzazione del modello dando vita alla terza generazione delle 88 la 88P la penna venne realizzata interamente in celluloide compreso fondello e sezione la più grossa differenza della 88P con le due serie precedenti è la nuova testina piatta in plastica nera disposta al raso della cima del cappuccio e inclinata discendente verso il fermaglio che segna l'abbandono delle forme stondate per la cima del cappuccio il fermaglio resta lo stesso della 88K piatto e con un incavo a forma di goccia allungata decorato con una laccatura nera la sezione continua ad avvolgere il pennino e recare sulla parte superiore la stampigliatura del logo ovitale con la dicitura 88P con la P in dimensione più grande rispetto al numero nel 1959 ecco arrivare l'aurora 888P a seguito della introduzione della 88P il nome della versione a cartucce della 888 fu cambiato in accordo in 888P una caratteristica curiosa del modello 888 barra 888P è che le penne furono vendute pronte per la scrittura vale a dire con le due cartucce all'interno della canna e la prima già inserita nel perno della sezione probabilmente quel trucco era destinato a generare il pensiero che questa penna stilografica fosse facile da usare come una penna sfera ma ovviamente questo portò in primo luogo un buon numero di penne danneggiate al fine di vedare gravi problemi alle mani degli utenti l'aurora 888-888P fu venduta con un cappuccio di plastica trasparente che si trovava tra il cappuccio e il pennino al fine di scongiurare perdere l'inchiostro e avrebbe dovuto essere gettato via come una prima cosa come per prima cosa dopo l'acquisto della penna ora signori mi fermo proprio un attimo un secondo esclusivamente perché dopo 41 minuti quasi 42 ho bisogno di chiudere la finestra solo per questo motivo qui perché ci siamo per adentrare negli anni 60 e ho il sole che mi batte sullo schermo un attimo due secondi e in questi due secondi prendete fiato anche voi come notate mi rimetto seduto come notate non ho interrotto la comunicazione la voce dopo un'ora che parlo chiaramente sta svanendo ma continuo imperterrito ma chi te lo fa fare Riccardo io certe volte me ne domando questa avventura lo faccio per per tribo lo faccio per l'aurora credo ma del sacrificio ne parliamo un'altra volta dai allora riscaldo un attimo la voce e proseguo andiamo avanti l'aurora negli anni 60 tanti sono gli avvenimenti nel mondo degli anni 60 cazzo mi metto paura perché dobbiamo arrivare al 2022 vabbè dai però siamo negli anni 60 l'Italia entra nel boom economico nascono i Beatles si svolge il festival di Wustock Kennedy e Martin Luther King vengono assassinati il primo uomo sulla luna e Barnard effetto è il primo trapianto di cuore con la nascita della televisione anche le strategie di marketing di aurora cambiano puntando decisamente sul nuovo mezzo di comunicazione nel 1963 viene introdotto il modello 98 sempre con caricamento a stantuffo come ultima evoluzione della gloriosa 88 dotata di una riserva supplementare di inchiostro chiamata riserva magica che consentiva di ottenere qualche goccia di inchiostro anche a serbatoio vuoto la penna riprendeva i principali temi del periodo con l'uso del pennino coperto linee sottili e un campuccio montato a incastro ma si distingue dalle altre produzioni del tempo per il sofisticato sistema di azionamento dello stantuffo e soprattutto per l'originale meccanismo della riserva magica il meccanismo della riserva magica è sostanzialmente un trucco ingegnoso che consente di trattenere una piccola riserva di inchiostro sulla testa del pistone in modo che una volta che si sia esaurito l'inchiostro normalmente contenuto nel serbatoio sia possibile scrivere all'incirca un'altra pagina attangendo alla riserva il sistema è basato sul fatto che la testa del pistone non è piatta come avviene tradizionalmente per un ordinario caricamento a stantuffo ma presenta una scanalatura rientrante in cui viene trattenuta per capillarità una piccola quantità di inchiostro quando l'inchiostro del serbatoio principale è esaurito si può spingere a fine corse il pistone portando la testa a contatto con il retro dell'alimentatore con il risultato di rendere disponibile l'inchiostro in esso trattenuto la quantità di inchiostro in esso così disponibile è piuttosto limitata ma consente effettivamente di scrivere un altro po' però il sistema mostrava dei problemi allora venne anche in versione a cartuccia dopo una prima produzione di alto livello la qualità, ahimè, si abbassò 1965 Aurora International è la versione alternativa della 98 chiamata internazionale nel 1965 venne introdotta la linea economica Auretta con caricamento a cartuccia i giovani e il mondo della scuola rappresentano per l'azienda il futuro ahimè oggi non è più così ahimè, ahimè, ahimè nasce così l'Auretta stiamo parlando del 65 1965 nasce così l'Auretta la penna che insegnava a scrivere ai bambini realizzata interamente in plastica l'Auretta era una robusta penna in grado di resistere agli abusi quotidiani degli scolari ed era dotata di un penino in acciaio semi-incappucciato che scriveva in modo fluido e affidabile l'Auretta ebbe subito successo e fu fenduta in grandi quantità la trovate su e beh tranquillamente andatela a cercare costi relativamente contenuti perché sono dei piccoli tesori l'Auretta originale fu realizzata in polistirolo grigio o nero con finiture cromate il suo penino era cosiddetto blindo iridio forse perché molto resistente agli strapazzi degli scolari dopo alcuni anni a l'Auretta fu fatto un lifting la forma rimase praticamente invariata ma la penna fu resa un po' più corta e fu realizzata con un nuovo materiale plastico più durevole, resistente ai graffi e soprannominata da Aurora a prova di crack con le nuove materie plastiche Auretta introdusse molti colori nuovi e luminosi nei primi anni 70 venne decorata con quadrifoglio perché Auretta era la stilografica porta fortuna la penna era venduta pronta per l'uso con una cartuccia già in posizione col tappo in plastica sul pennino a protezione la terza versione venne proposta con Auretta Klebbe ed esisteva anche completamente nera con gli anellini coi colori della bandiera italiana ed anche con corpo e cappuccio in metallo e inserti plastici fondelli, anellidi e cappuccio ed aveva la peculiarità del pennino centrale studiato per facilitare la transizione alla stilografica da chi era abituato a usare le biro L'ultimo modello di rilievo storico dell'Aurora è stato probabilmente la A-stil che vuol proprio dire A-stile Franco Veruna Franco Veruna assunse il famoso architetto Marco Zanuso che era stato discepolo di Nizzoli e che ha disegnato diversi prodotti televisori, poltrone così nel 1970 fu lanciata la penna che riscosse un inerme successo internazionale tanto che un esemplare di questa penna è esposto in permanenza al Museo of Modern Art di New York il famoso MOMA realizzata con un sottile corpo in acciaio lavorato in forma cilindrica la penna è caratterizzata da un sistema di alimentazione molto raffinato denominato Hidrograph sistema di alimentazione che sfrutta la capillarità per garantire un flusso d'inchiostro più equilibrato e da un penino montato in posizione centrale la A-stile stabilì un trend che fu molto copiato negli anni 70 e 80 poi nel 1982 tutti i modelli che trovate su ebay per un collezionista insomma vale la pena averli 1982 per l'Aurora ecco uscire la Marco Polo dopo il successo della A-stile l'Aurora lanciò una nuova serie chiamata Marco Polo è una penna che si pone nel solco della A-stile che anticipa la Magellano alla quale seguirà la Kona la Kona poi è un'altra penna meravigliosa si tornerà poi alle penne a sigaro vedi l'Aurora 88 Big la caratteristica principale di queste quattro penne è il diametro talmente limitato del fusto da rendere pressoché necessaria la loro realizzazione in metallo per renderle sufficientemente resistenti tale eseguità esclude un sistema di caricamento a pistone e semmai indirizza verso converte proprietari il trick e track della A-stile compatibile con la Marco Polo seguentemente fu lanciata la Magellano che è una chiara evoluzione dello stile della Marco Polo della quale segue anche il filologico del nome e ne condivide il corpo scrittura Nel 1986 ecco arrivare Aurora Kona questo modello fu concepito dal designer Giorgetto Giugiaro la penna è in stile neoclassico con una forma simile a una colonna dorica e siamo arrivati agli anni 90 L'Aurora negli anni 90 Gli anni 90 sono stati un decennio in cui molti produttori di penne hanno prodotto modelli che si rifacevano alle loro radici facendo rivivere elementi di design vintage o intere linee di penne Aurora ha partecipato a questa tendenza retro e nel riporto degli anni 90 nel 1989 per la precisione rintrodusse la serie 88 dapprima tale modello fu rintrodotto nella versione cosiddetta Rebbi Lunghi il pennino con i Rebbi Lunghi non riporta la scritta Aurora visibile perché è al di sotto della linea della sezione tale pennino fu sostituito con l'attuale versione a punte corte Rebbi Corti all'incirca nei primi due anni di produzione dopo le proteste dei clienti che volevano il nome del marchio inciso sul pennino in modo visibile Caratteristica molto particolare dell'88 o meglio del gruppo scrittura Aurora risiede nel fatto che può essere smontato in blocco e utilizzato per la prova scrittura senza la necessità di utilizzare il pistone e quindi senza sporcare la penna in pratica per fare la prova scrittura è possibile utilizzare una qualsiasi cartuccia Cartuccia sulla 88 Optima? Possibile? Assolutamente sì infatti tutte le penne Aurora che utilizzano questo gruppo di scrittura indipendentemente dal sistema di caricamento sono dotate di perforatore per poter utilizzare le cartucce infatti l'Aurora ha progettato il gruppo di scrittura in modo tale che possa essere smontato dal resto del corpo senza fatica alcuna montare una cartuccia ed eseguire test senza inchiostrare il corpo l'Aurora stessa utilizza questo sistema per testare qualsiasi gruppo scrittura e controllare la corretta realizzazione di qualsiasi pennino notate come tale piccolo dettaglio si è in realtà facilmente visibile attraverso la finestra in QVU in tutte le 88 Optima infatti la stanghetta nera in mezzo alla finestra trasparente a mia attuale conoscenza della nuova 88 vi sono di basse due versioni una denominata BIG con caricamento a pistone e finestrella di ispezione con riserva magica ed una denominata SLIM modello 88 l'inietto 810 con caricamento a cartuccia converter fermiamoci un attimo nel 1992 Aurora rientroduce la linea Optima penne che richiamano fortemente le duplex degli anni 20 e 30 in un design più compatto e filante l'Optima prende in prestito molte caratteristiche dal vecchio modello duplex è una penna in celluloide con una caratteristica clip a rondella ad arco è completamente moderna nel funzionamento con riempimento a pistone utilizzando il fondello come manopola girevole il cappuccio è ornato da una fascia molto ampia placata in oro incisa con design aggrega che è fiancheggiata da strisce la catenere c'è una grande finestra di visualizzazione dell'inchiostro nella parte superiore del fusto accanto alla sezione scrittura i primi modelli erano dotati di un grande pennino in oro 14 carati con nome Aurora e l'Italia in un ovale un design simile al pennino del duplex le prime Optima venivano offerte in blu con balto grigio fumo marrone ambre verde smeraldo auroloide nome di Aurora per la sua celluloide profondamente marmorizzata tutte le Optima e le 88 bicche hanno un'interessante caratteristica di serbatoio nascosto questa funzione consente una pagina aggiuntiva di scrittura quando la penna si sorrì eppure il raffreddore madonna non è covid perché già l'ho avuto e ne sono già guarito qui l'oratorio tiene duro dai il manuale dice quando la penna smette di scrivere gira l'estremità in senso anti-orario fino in fondo e la penna scriverà un'altra pagina puoi lasciare l'estremità girata per ricordarti di riempire la penna con inchiostra Aurora questa azione probabilmente utilizza la pressione dell'aria del pistone per premere l'inchiostro rimasto nella penna nel fed consentendo nel conduttore consentendo circa una pagina di scrittura aggiuntiva è una caratteristica chiara e mostra quanto sia ben sigillato il corpo pistone della penna edizioni limitate Optima l'Optima è una linea di molto successo e il design è servito come punto di partenza per molte penne in edizione limitata di seguito riporto solo le prime all'inizio del 1992 Aurora lanciò la Columbus anniversario edizione limitata 500esimo anniversario edizione limitata una serie di 1492 pezzi numerati nelle versioni penna stilografica penna sfera a rotazione e matita a rotazione e matita a rotazione ciascuna ha un rivestimento placcato in oro con speciale incisione ed è contrassegnato con le date 1492-1992 scoperta dell'America sulla fascia del cappuccio la penna stilografica ha un pennino in oro 18 gradi a differenza dei normali modelli Optima nel 1993 fu la volta di un'altra edizione limitata laminata in argento sterling chiamata denominata Carlo Goldoni edizione limitata un omaggio al drammaturgo veneziano che ha avuto una grande influenza sulla commedia italiana la fascia del cappuccio è incisa con 1707-1793 la sua nascita è morte e anche con maschere del teatro comico italiano la serie è stata rilasciata in 1793 pezzi numerati in penna stilografica con pennini in oro 18 carati penna sfera a torsione e versioni a matita con azione a torsione nel 1994 venne lanciata una Optima in celluloide rosso brillante come edizione limitata per il 75esimo anniversario una serie di 7500 pezzi numerati nelle versioni con penna stilografica penna sfera con azione a rotazione e matita con azione a rotazione la corona della clip della penna dell'anniversario è appositamente incisa con il logo del 75esimo anniversario e la fascia del cappuccio a aurora incisa al centro sotto la clip la penna stilografica è dotata di un pennino in oro 18 carati decorato questo stile definirà il design per le prossime tre penne basate su Optima in edizione limitata infatti è del 1996 l'aurora sole edizione limitata in celluloide con tutti i dettagli della 75esima anniversario edizione limitata inclusa una nuova corona a clip dal design speciale in onore del sole l'ispirazione della celluloide gialla vivida della penna il sole è disponibile in 7500 pezzi numerati nelle versioni penna stilografica penna sfera rotazione e matita a rotazione voi sapete che le edizioni limitate per i collezioni che si fanno alzare già costano tantissimo poi vabbè andiamo avanti nel 1998 seguono l'edizione verde primavera edizione limitata e nel 2000 l'edizione blu mare edizione limitata ciascuna un'esclusiva incisione della corona clip ed è sono pezzi numerati abbiamo sempre la stilografica il roller e la penna sfera e anche la matita aurora ha offerto entrambe le penne in speciali set di penne stilografiche e penna sfera e 4 quartetti con lo stesso numero di serie ci stiamo avvicinando al 2002 quando fu lanciata l'aurora africa edizione limitata che si discosta dalle presenti 4 edizioni limitate in celluloide optima con un approccio di design unico la penna è tornita a mano da una resina nera e marrone il cappuccio ha una corona che monta in pietra d'agata semipreziosa e la fascia del cappuccio è una fusione in alto rilievo con aurora sopra africa è accentata con scuti tribali africani lo stesso pennino in oro decorato a 18 gradi e montato e l'edizione numerata africa è stata offerta come 7500 stilografiche 5500 penne roller con cappuccio 7500 penna sfera a torsione 2500 matite meccaniche a torsione e 999 penne per schizzi a piombo largo nel 2006 fu lanciata la sole aurea minima per celebrare il decimo anniversario della sole più grande realizzata con lo stesso materiale nella misura più piccola optima mini il nome sole aurea minima potrebbe tradursi come mini sole dorato e dal giallo vivido auroloide il nome di aurora per la sua celluloide alla speciale corona clip a raggera la nuova penna lo afferma certamente aurora ha scelto di ricreare fedalmente l'originale sole in una dimensione più piccola e rimanere coerente col formato mini rimanendo lontano dalla decorazione elaborata vista sulle precedenti edizioni limitate nel 1993 il design Giampiero Maria Budino stilista gioielliere che ha lavorato anche per Bulgari Gucci e Cartier disegna la Y con inconfondibile clip a Y la Y deluxe ha inoltre lo stesso gruppo di scrittura in oro 14 carati della nuova 88 a parte il gruppo scrittura si vede la differenza estetica della Y normale che presenta un cappuccio leggermente più bombato rispetto alla deluxe tra il 2000 e il 2002 Bodini disegna altri due modelli la Talentum e il modello Leonardo da Vinci il cui penino sembra richiamare la Kona nel 2008 l'Aurora produsse la serie archivi storici la collezione archivi storici deve il suo nome al ritrovamento di una serie di meccanismi originali degli anni 50 perfettamente funzionanti collaudati e garantiti da Aurora in questa gamma ritroviamo la ridizione della Duocart nell'ultimo decennio Aurora ha prodotto anche penne per la fascia studentesca quali ad esempio la idea la stile e la K quindi non è vero tendenzialmente che l'Aurora il settore giornale l'abbia abbandonato diciamo che non è stato il principale suo mercato parliamo del pennino Aurora qui entriamo in un mondo ragazzi attenzione io spero di avercela fatta siamo quasi alla fine forse manca poco dai coraggio un abbraccio il pennino Aurora Aurora è l'unica azienda in Italia e tra le poche al mondo a produrre il pennino vero cuore della penna offrendo così alla glintela la possibilità di scegliere il proprio stile di scrittura in un'ottica di fine sartorialità oltre a creare per i collezionisti di tutto il mondo prestigiosi edizioni in serie limitata e numerata tra i 50 dipendenti di cui il 75% donne che oggi lavorano in Aurora gestendo in un affascinante mix di sapiente manualità e utilizzo di sofisticate apparecchiature e oltre 200 operazioni che servono per fabbricare una penna stilografica c'è Filippo Loghero 50 anni Nibbmeister e responsabile dei pennini del montaggio e della scrittura forse oggi è anche andato in pensione è lui che trasforma lamine d'oro a 14 o 18 carati o di acciaio per le linee più economiche in punte adatte ad ogni pugno ad ogni mano sono 18 le fasi principali per realizzare il pennino attraverso una decina di macchine ma quello che fa la differenza come sempre sono i dettagli il momento fondamentale è la saldatura dell'iridio un metallo duro che determina il grado di scrittura nelle penne standard è una piccola briglia che a seconda della posizione determina il tipo di linea grossa o sottile che si vuole ottenere nelle penne personalizzare invece quelle disegnate sul singolo cliente si usa una barra di iridio che viene calibrata esattamente sul tratto orizzontale e verticale che si vuole tracciare i diversi tipi di pennino sono l'oro massiccio 18 carati nelle edizioni e produzioni limitate e nella collezione gioiello l'oro massiccio 14 carati nell'alto di gamma per esempio la 88 la Optima l'Alpha la Talentum l'Y e la Deluxe è il tipo di pennino che garantisce la giusta flessibilità e la migliore fluidità dell'inchiostro per avere poi terza tipo di pennino l'acciaio per le altre linee tipo lo stile la Y e la Magellano l'Aurora ai giorni d'oggi gli anni passano e la grande storia di Aurora continua portando nel mondo l'eccellenza del Made in Italy ai giorni d'oggi il presidente è Franco Verona che entra definitivamente nell'azienda guidata dal padre Franco nel 2011 assume la totale responsabilità della manifattura affiancato dalla moglie Linda di Fonzo i mercati più importanti oltre l'Europa sono il Giappone l'America la Corea e tutto il Medio Oriente a seconda del mercato vi sono dei prodotti differenti in Giappone hanno una cultura per le ottima e le 88 mentre in Medio Oriente hanno assolutamente dei pezzi di gioielleria con diamanti e piede preziose e oro massiccio vi stimo che l'Aurora e il Diamante è su circa un milione e mezzo di dollari per darvi un'idea l'80% questo ve lo dico io l'80% della produzione Aurora è rivolta all'estero quindi per gli appassionati devo essere sincero è veramente una piccolissima i collezionisti hanno una piccolissima fetta del mercato i collezionisti italiani sto parlando i modelli principali attualmente in produzione sono la Optima la Demostrator la Edo l'88 la Alpha la Talentum la Astil la Tu la Y la Duocard e la Jung siamo arrivati alla fine ragazzi l'avventura l'avventura mi ha portato a praticamente l'azzeramento della mia voce noterete come due ore fa la mia voce era linda e cristallina dopo due ore io la mia voce è praticamente terminata però alla fine di questo viaggio ci vuole qualche ringraziamento è Tribbo l'autore di questo lavoro a cui ho prestato miseramente e vi chiedo scusa la mia voce allora il ringraziamento di Tribbo va ad alcune delle principali fonti di questo schemino riassuntivo e sono state il wiki e i post degli utenti del forum funtampen.it altro ringraziamento va alla storia della stilografica italiana volume 1 di Letizia Iacopini una magnifica e grande donna del mondo della stilografica italiana che tanto ha contribuito penne stilografiche antiche e moderne di Andreas Lambro un volume e la storia della manifattura Aurora materiale ritrovato su YouTube il presente video è fornito esclusivamente per fini personali di ricerca e di studio è vietato qualsiasi tipo di distribuzione tutti i copiratti riguardanti foto e testi appartengono esclusivamente ai rispettivi autori ragazzi io ci ho messo il cuore io ci ho messo quello che potevo metterci voi metteteci l'anima perché perché se l'ho fatto l'ho fatto sicuramente per il ciclo stilografico romano e se ne vale la pena farei la stessa cosa per la Montblanc abbiamo tutto il materiale già pronto per la Leonardo per le big four americane per le stilografiche giapponesi per la Omas vorrei fare il prossimo volume dedicarlo alla Omas lo farò con la mia voce lo farò con le mie forze però voi datemi anche un contributo ma non economico non vi chiederei mai un centesimo come fanno altri canali non voglio regali il contributo non pretendo neanche il mi piace non mi serve neanche quello neanche l'iscrizione al canale neanche il commento datemelo con la vostra con la vostra forza e con la vostra energia mentale l'incoraggiamento lo ricevo anche così io e tutti quelli che contribuiscono insieme a me al canale un abbraccio perché non c'ho più voce ragazzi non c'ho più voce ma vi voglio bene sempre ricordate è al primo posto sempre la divulgazione per questo mondo magnifico la storia delle stilografiche bellissimo un abbraccio forte e alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti.